Unboxing Petzl Scorpio Iswook. Si tratta di un sistema di sicurezza da ferrata della Petzl. Anche qui come tutti gli altri prodotti che ho acquistato e che comunque si trovano in giro su internet, la differenza la fa... ci sono alcune caratteristiche che però magari le possono apprezzare soltanto gli esperti. Io quindi ho acquistato questo oggetto da Campo Base Roma e mi sono fatto consigliare. Ancora devo dire che non ho avuto modo di utilizzarlo, l'avevo preso per un'uscita che poi è saltata e ha cambiato come tipologia. La sacca è comoda per portarlo perché poi alla fine questo è un imbraco che non si utilizza sempre. Qui ovviamente c'è il manualetto classico della Scorpio. Cioè non si utilizza sempre, nel senso può capitare di portarlo in giro per gite di più giorni anche da rifugio a rifugio, da bivacco a bivacco e avere soltanto alcuni tratti di ferrata. Quindi questa sacchetta è sicuramente comoda. Cinglia elastica. Moschettone con sgancio di sicurezza. Devo dire che mi piaceva anche il colore, anche se l'imbraco che ho acquistato della Black Diamond è antracite, però insomma... Qui dentro c'è il meccanismo di sicurezza. Ovviamente questo come tutti gli strumenti che vengono utilizzati per salvaguardare la propria incolumità è soggetto a verifiche periodiche. Quindi bisogna sempre stare attenti all'usura di questi materiali poliestere e materiali elastici che potrebbero poi cedere col passare del tempo, anche pur non utilizzandoli spesso. Va bene.